E' stata pubblicata la scoperta di Itri, carta turistica e guida enogastronomica del territorio limitrofo. L'iniziativa, che alla quinta edizione, è stata realizzata dalla 3-bit comunicazione, uno studio grafico con sede a Formia. L'opuscolo, nato con l'obiettivo di promuovere il territorio e i suoi punti di attrazione, sarà stampato in formato pieghevole e sarà uno strumento utile per turisti e viaggiatori che vorranno conoscere Itri e apprezzare i colori e le peculiarità della bella cittadina, sita tra mare e montagna. Le precedenti pubblicazioni di Alla scoperta di Itri hanno riscosso un ottimo successo sia tra i turisti che tra gli abitanti del posto. Sulla scorta di questa eco, l'idea è stata riproposta con altri contenuti ed una nuova veste grafica accantivante, fine ed elegante. Sulla mappa sono indicati e messi in evidenza i luoghi rilevanti sotto il profilo turistico-culturale e i servizi offerti dal territorio. Farmacie, stazioni dei carabinieri, scali ferroviari, parcheggi gratuiti e altro. Ogni punto è contrassegnato da un apposito simbolo identificato nella leggenda situata ai piedi della mappa. Novità e punto di forza di questa quinta edizione è la guida enogastronomica che illustra le principali enoteche, pizzerie e ristoranti comprese tra Itri, Campodimelo e Fondi, Formia, Gaeta e Sperlunga. Alla scoperta di Itri ha una tiratura di oltre 30.000 copie e può essere ritirata gratuitamente in edicole, librerie e locali dei paesi coinvolti nell'iniziativa.